Protagonista, precursore, propugnatore, forse anche iniziatore, poi nel corso della lezione cercheremo di capire il perché di questo forse propugnatore, dicevo, della tendenza lirica, iniziatore della tendenza lirica dell'astrattismo fu Vassili Kandischi. Kandischi fu un personaggio complesso, assolutamente amabile, nonostante i tratti del volto così severi che vedete nella slide, personaggio coltissimo, grande, teorico, profondo, conoscitore, raffinatissimo, conoscitore delle arti figurative, oltre che pittore in prima persona, nasce in Russia da un importatore di te, da un mercante di te e poi il padre si trasferisce con la famiglia a Monaco di Baviera e Vassili probabilmente grazie a questa posizione sociale e economica privilegiata avrà modo di formarsi in diverse città europee che formeranno appunto la ricchezza del suo carattere, del suo interesse, della sua curiosità, a partire da Odessa dove sarà ospite di un'azia e dove avrà i primi rudimenti musicali. Lui studierà violoncello e praticherà la musica per tutta la vita. Abbiamo visto l'importanza fondamentale che la musica ha non solo per Vassili Kandischi ma poi anche per Paul Klee e anche per alcuni compositori che influiranno nello sviluppo anche delle arti figurative. Mi riferisco in particolare a Schoenberg, ma anche a Berg, ma anche a Webern. E nella stessa città di Odessa Kandischi avrà le prime lezioni di disegno e pittura che saranno fondamentali. Completerà i suoi studi all'Università di Mosca dove avvierà la sua carriera verso gli studi giuridici e proprio questi studi giuridici lo conducono in Estonia. In Estonia avrà, otterrà una cattedra universitaria e in questo momento avviene la svolta perché a questo punto gli orientamenti, le intenzioni, le convinzioni di Kandischi emergono in maniera più potente e questo giovane artista che per ora non è un giovane artista ma un giovane giurista rinuncia alla cattedra, rinuncia a una posizione facile e tutto sommato anche a una prospettiva di successo abbastanza certa. Insomma per tornare a Monaco di Baviera dove decide di completare la propria formazione appunto artistica, si avvicina alla secessione monoscienza e diventa allievo del pittore simbolista Franz von Stuck del quale noi abbiamo già parlato qualche lezione fa se vi ricordate, analizzando nello specifico un dipinto, Il Peccato, dipinto inquietante ma anche molto affascinante con questa donna bellissima ammantata nelle spire di un serpente. In questa fase, che è una fase fondamentale per la crescita spirituale e soprattutto per il raffinarsi del gusto dell'artista, gli interessi di Kandischi si mantengono comunque legate alle tradizioni etno-antropologiche della madre patria e quindi della Russia. Per esempio negli stessi anni si occupa delle condizioni, delle tradizioni, delle campagne della regione di Vologda nella profonda campagna moscovita dove si recherà protagonista appunto di una spedizione di studio finanziata proprio dalla Società di Scienze Naturali e di Antropologia con un interesse fortissimo per la cultura popolare russa. Interesse, un elemento di interesse che si rileva anche in altri personaggi di cultura più o meno negli stessi anni, traspare in molti intellettuali questa analisi, questo studio degli strati più bassi e popolari del popolo. Soprattutto in Russia si pensi per esempio alla pubblicazione dei quattro libri di lettura e dei racconti popolari operata da Tostoi. Ecco qui l'impatto dei colori sgargianti, dei tessuti carichi, chiassosi, dei vestiti della festa, delle contadine, con questa vitalità vernacolare della sagra paesana che si accompagna alla danza, alla musica popolare, che in generale aveva stimolato, intendo la cultura popolare, anche a livello musicale, importanti riscritture, traduzioni musicali molto colte per compositori europei di una grande importanza. Mi riferisco a Vorjak per esempio nelle danze slave del 1878, ma prima ancora di Johannes Brahms nelle danze ungheresi, siamo tra il 1852 e il 1869. Quindi questo studio, diciamo, della tradizione popolare influisce non solo nelle arti figurative, ma anche nella musica. E questo atteggiamento, questo studio del colore, del gusto pregnante di questa tradizione popolare resta fondamentale per tutta la carriera di Kandinsky, che poi successivamente avrà anche modo di affermare, proprio di specificare, con le parole che vi scrivo nella slide, non dimenticherò mai le grandi case di legno ricoperte di incisioni, esse mi insegnarono a muovermi nel quadro e a vivere in esse, mescolando in qualche modo realtà, fantasia, una fantasia assolutamente curiosa e colorata. In questa fase, che si sviluppa tra il 1904 e il 1907, più o meno, è che l'artista definisce la fase dei disegni colorati, in cui, come vediamo per esempio in questo dipinto, La vita colorata, che vi propongo, Kandinsky traduce in forme e colori questa sorta di spinta popolare da festa paesana, giocosa, incontenibile, gioiosa, soprattutto che esplode nei colori intensi, nel vortice di personaggi che sono legati alla tradizione e al folclore russo, Kandinsky evidentemente è attratto dal postimpressionismo, si vede dal tipo di pennellata, dall'uso del colore, ma anche dall'uso di queste piccole macchie brillanti e dissonanti che è tipico del simbolismo russo e che si traduce nell'uso di una materia pittorica accesa, incandescente, intensa, che viene stesa per piccoli campi piatti, accostati, completamente privi di ricerca di profondità prospettica. Secondo Wollinger, l'uso della prospettiva aveva caratterizzato tutta l'arte occidentale, dall'ambito greco-romano fino al Rinascimento e poi in avanti, mentre invece le tradizioni popolari, quella russa in particolare, abbandonavano completamente questo interesse per la prospettiva, per la razionalità. Ecco, e questo caratterizza evidentemente il gusto del primo Kandinsky, il colore e la libertà in qualche modo. Queste annotazioni tecniche poi si unisce evidentemente all'interesse antropologico per la cultura tradizionale russa e tedesca. E' proprio l'esaltazione di una specie di mitologia del Medioevo tedesco e della vita contadina russa che vengono trasfigurate nei loro rispettivi simboli e archetipi, vedremo il cavaliere, il monaco, la vedova, il pellegrino, il guerriero, gli amanti, la vecchia, sembra mostrare una ricerca delle origini, un tentativo di tornare a una spontaneità, a una densità, alla verità di una vita semplice, se la vita semplice è perciò stesso ritenuta più autentica. Una ricerca delle origini che non è molto dissimile a quell'urgenza di fuga, di ritorno alle origini che abbiamo già incontrato in tanti artisti da Gauguinna e Nabì ai protagonisti della Bruche. Ricordiamo per esempio, per quello che riguarda la Bruche, sempre in ambito tedesco, il ritorno alla spontaneità brutale della xilografia di Kirchner o di Echel, la semplificazione naturale delle figure femminili di Otto Müller, la ricerca di una specie di Eden esotica da parte di Max Pechstein, ma contemporaneamente in Kandinsky il distacco dalla poetica della Bruche appare evidentissimo. Abbiamo parlato diffusamente del gruppo Buonascenza del Cavaliere Azzurro, del Blaue Reiter, del quale Kandinsky sarà ispiratore insieme a Franz Marc, e abbiamo sottolineato in questo senso gli aspetti positivi, il rifiuto del pessimismo di fondo, del gruppo del ponte, la visione spirituale, mistica, visionaria dell'arte, l'uso della pittura come veicolo di salvezza dell'umanità. Ecco, secondo Kandinsky, l'intera storia dell'umanità può essere letta come una progressiva liberazione dal materialismo, inteso come principio negativo evidentemente, verso il più puro spiritualismo. E già qui si legge la prima fondamentale opposizione concettuale rispetto alla tendenza ultrarazionale che invece stimolerà un altro genere di astrattismo, mi riferisco a Destilla, al costruttivismo russo, che abbiamo già indicato in qualche modo nella nostra introduzione. In questo senso, in questo percorso, secondo Kandinsky, l'uomo usciva dalle tenebre per raggiungere la luce e la salvezza attraverso la propria individualità, attraverso la propria spiritualità. E l'arte quindi doveva servirgli innanzitutto ad innalzarlo dall'umiliante impedimento della realtà materiale per conquistare una realtà che è la realtà della visione pura e che è una realtà assolutamente spirituale. Ma ovviamente le figure archetipiche, in questo senso, assumono un'importanza fondamentale perché sono la traduzione simbolica degli stati d'animo, delle pulsioni positive, delle pulsioni anche negative, degli echi della tradizione in cui riaffiora la memoria antropologica di un'intera cultura. In questo senso, sarà proprio Kandinsky ad affermare ben presto mi parve che le epoche passate, non avendo più un'esistenza reale, avrebbero potuto dare spunti più liberi all'uso dei colori che sentivo in me. Così scelsi dapprima il Medioevo tedesco che sentivo a me spiritualmente al fine. Questa scelta di sostanza, quindi, nell'individuazione di figure simboliche, spesso anche contrapposte fra loro, una specie di tarocchi, no? In grado di contenere una spiritualità, una sapienza antiche e quindi fuori dal tempo. Per esempio, la pura bellezza russa vado a contraltare l'eroismo del cavaliere. Io in questa slide vi presento appunto la bellezza russa in un paesaggio e dall'altra parte un dipinto che sarà fondamentale perché prende, non a caso, il nome del cavaliere azzurro. L'eroismo del cavaliere, spesso ammantato di blu, che è un colore spirituale per eccellenza, cioè un richiamo evidente al cielo, alla sfera divina, e che è in grado di curare, di vendicare, di redimere. Quindi il cavaliere è in qualche modo una figura positiva, la figura salvifica. E la figura del cavaliere, che vedete in questo dipinto, appunto tanto amata da Kandinsky, questa è una celebre versione che viene realizzata addirittura nel 1903, che si conserva a Zurigo in collezione privata, che, come vi dicevo, ha proprio il titolo esemplare di Der Blaue Reiter, il cavaliere azzurro. Ovviamente questa passione per il cavaliere entrerà presto in risonanza con quella del cavallo, che è l'elemento portante del linguaggio di Franz Mark, perché il cavallo indica la libertà lirica della natura, e proprio con Franz Mark nel 1911 Kandinsky fonderà appunto il gruppo del cavaliere azzurro. Ecco, il percorso che lo avrebbe portato alla versione espressionista lirica o espressionista stratta del cavaliere azzurro, però non può prescindere dal soggiorno di Kandinsky a Parigi tra il 1906 e il 1907. Un soggiorno durante il quale evidentemente Kandinsky poté confrontarsi con più agio, con la violenza cromatica gioiosa della cultura dei Fauves, oltre che con l'opera di Gauguin e dei Naby. Quindi, come tanti artisti prima di lui, Parigi avrà un'influenza fondamentale proprio per la formazione, per lo studio di prima mano di un tipo di espressionismo, in questo caso, quello francese, che in qualche modo si contrappone all'espressionismo di Dibru, che ha il suo pessimismo, alla sua violenza, diciamo, pessimista, con una violenza invece del colore che è completamente positiva in qualche modo. Il viaggio fu fondamentale e a questo viaggio seguì una fase di sperimentazione che impegna l'artista durante la sua permanenza a Murnau tra il 1908 e il 1909. Questa è una fase fondamentale perché in questa fase, appunto, l'artista comincia a comprendere le potenzialità della tendenza astrattiva, convinto che si possa guardare alla realtà astrattamente, ossia ignorando la funzione quotidiana delle cose. Quindi in dipinti come quello che vedete, il paesaggio a Murnau del 1909, che si conserva a Monaco, voi vedete che non c'è ancora uno scollegarsi completo, diciamo così, dal mondo della realtà. C'è un'interpretazione nuova della realtà, l'idea, come si diceva, di guardare alla realtà astrattamente. A Murnau, grazie all'influenza della moglie, che è un'altra pittrice interessante, Gabriele Munter, dell'amico Alexei Jolensky e di Marianne von Verevkin, coltiva proprio questo interesse per le forme semplici e per un colore assolutamente libero. In un dipinto come il paesaggio a Murnau si diceva si può già vedere come il riferimento al dato naturale, oggettivo, materiale, venga completamente trasfigurato nella semplificazione formale e nell'uso spontaneo, antinaturalistico, esplosivo degli accostamenti cromatici. Allora il riferimento alla realtà sensibile si fa sempre più remoto. Esiste, c'è un'evidenza chiara delle forme ancora presente, si riconoscono i campi, gli alberi, la strada, i contadini, però i colori compatti, dirompenti, le loro forme semplifiate sembrano piuttosto aspirare ad evocare l'essenza, più che a descrivere l'apparenza esteriore, l'evidenza sensibile. Questa ricerca lo accomuna appunto ai suoi amici, ai suoi colleghi, io qui vi metto tre esempi di Jolensky, di Munter, di Verevkin, che ci mostrano appunto un uso assolutamente libero della linea e del colore che in Kandinsky poi a un certo punto si libererà completamente. Siamo nel 1909, siamo sul limitare della svolta astratta. Di qui a poco appunto Kandinsky maturerà la sua scelta, una liberazione che si fa sempre più evidente dal modello naturale per accedere a un tipo di linguaggio completamente libero. Come si diceva nell'introduzione, così come la musica utilizza un linguaggio completamente libero suo, proprio, che non ha a che fare con l'imitazione, anche la pittura e poi la scultura devono utilizzare i loro strumenti, la linea, il punto, il piano, la forma, la figura, per descrivere un mondo in maniera completamente diversa che prescinda in maniera completa dall'imitazione della natura. Nella prossima lezione vedremo proprio questa svolta verso il mondo astratto.